Paperino e la sposa persiana è una storia deliziosa che trova la sua forza nei piccoli dettagli sia a livello grafico che narrativo. Il profilo visivo è ricchissimo e suggestivo, il ricorrente uso di controluce e chiaroscuro con abbondante inchiostrazione rende benissimo l'atmosfera inquietante e misteriosa che Barks costruisce nelle prime tavole, così come il character design dello scienziato pazzo veramente perturbante. Gli elementi a cui Barks attinge sono classici topoi del genere horror, il genio malvagio, la rianimazione dei morti o la casa isolata, tratti un po' da Frankenstein, un po' dalla mummia, che Barks riesce a mischiare e a coniugare sapientemente con il cannone disneyano. La storia è comunque profondamente inquietante, soprattutto nella prima metà, dove il registro narrativo è palesemente orrorifico, a partire dalla presentazione dello scienziato pazzo per arrivare al rapimento dei paperi, raccontato con ritmo lento e un crescendo progressivo di tensione. Nella seconda parte, l'orrore lascerà il posto all'avventura e ai suoi ritmi più sincopati. La grandezza di Barks si scorge nelle piccolezze, quali il passaggio da un paperino palesemente terrorizzato colto in flagrante dallo scienziato a una maschera di apparente tranquillità e sfrontatezza, tradite però da due singole gocce di sudore sulla tempia. Oppure la prospettiva di questa vignetta, che con un'inquadratura racconta un universo di significati. Un altro particolare di pregio è la Rocca di Gibilterra, rappresentata con incredibile dovizia di particolari, grazie alle fotografie di National Geographic, rivista che Barks collezionava con una certa costanza. Si tratta di un particolare importante anche dal punto di vista narrativo, in quanto ci racconta di come secondo Barks i paperi vivano sul nostro stesso mondo, i luoghi fittizi come il Calisota e Paperopoli, ma effettivamente sul nostro stesso pianeta. Ciò dona notevole spessore all'universo narrativo barksiano. Una cosa fondamentale da notare è che in questa storia dei personaggi muoiono. Il re persiano, sua figlia e tutta la sua corte prima vengono riportati in vita dallo scienziato pazzo e poi vengono letteralmente polverizzati da Paperino e i nipotini, mettendo in scena di fatto una delle rarissime morti accertate che si possano vedere nei fumetti Disney. Un'interessante curiosità sulla traduzione e sull'adattamento riguarda la terz'ultima vignetta in cui vediamo dei nipotini spaventatissimi mentre Paperino li abbraccia finalmente di salvo. Il punto è che in lingua originale, così come nelle prime traduzioni italiane, Paperino diceva che per quella volta non gli avrebbe picchiati per avergli disobbedito, mentre invece nell'ultimo adattamento italiano il balun di Paperino è stato modificato in un semplice, questa volta vi perdono, sono troppo felice di vedervi. Snaturando il messaggio originale di Barks e vanificando il grande terrore che si può scorgere negli occhi dei nipotini in quella vignetta.